Svotata dalle auto Piazza Terraglio e terminati i primi tre mesi di sperimentazione, l'amministrazione comunale ha deciso di rimescolare le carte e modificare nuovamente il sistema dei parcheggi. L'idea è quella di mantenere Piazza Terraglio orientata principalmente ai residenti, riservando durante il giorno una quindicina di posti a pagamento, quindi giallo-blu, però di sera tutta Piazza Terraglio diventerebbe uno spazio esclusivo per i residenti del centro storico, mentre Viale dei Martiri, discesa a Marnian, sia nella parte alta che nella parte bassa, diventerebbero tutti spazi blu, quindi gratuiti alla sera. Non una rivoluzione ma un'evoluzione, la definisce Campagnolo, che sostiene sia questa l'unica soluzione in grado di soddisfare le richieste tanto dei residenti quanto dei commercianti. L'elemento di grossa novità è che alla sera, dalle 8 di sera in poi, Piazza Terraglio diventa esclusivo spazio di parcheggio solo per i residenti, quindi vuol dire anche limitare il traffico di prossimità in quella zona. Insomma, io non credo che andranno a cambiare molto le abitudini di chi poi va a utilizzare i locali in centro storico, perché poi i parcheggi ci sono, li vicino allo stesso, insomma. E Campagnolo risponde anche ai commercianti favorevoli alla nuova impostazione, a patto però di modificare contestualmente gli orari della ZTL. È una richiesta legittima, che ha anche un senso, perché loro chiedono la variazione degli orari della ZTL in periodo invernale, insomma adesso ho detto che valuteremo, la Commissione l'ha accolta e è in discussione, ma non è che non è stata considerata.